Bruno Mars, Death's Water Like, 7.35 minuti, sempre qui per la nostra nuova seconda mezz'ora di trasmissione in vostra compagnia, 33178535555, se volete condividere con noi quello che magari volete fare oggi o che progetti avete oggi, noi vi diamo un suggerimento, c'è una giornata intera oggi che potete dedicare a Nanni Svampa, in che maniera? Bene, lo chiediamo alla nostra ospite collegata con noi, Nucci Ferrari, cofondatrice dell'associazione Nanni Svampa, buongiorno e benvenuta a Good Morning Milano. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e anche a chi ci ascolta ovviamente. Grazie mille di essere qui con noi, allora dicevo oggi c'è una intera giornata dedicata a Nanni Svampa, anzi ci sono le Svampeide, come le possiamo chiamare così, giusto l'avete chiamata? L'abbiamo chiamata Svampeide perché veramente siamo andati alla ricerca delle origini dello Svampa, delle origini nel senso dell'opera artistica, perché Svampa ha fatto tantissimo, ha fatto l'attore, il cantautore, l'umorista, lo scrittore, ha curato tutta la ricerca della canzone popolare, dei riti contadini, ha girato documentari, quindi ha tradotto Brassense prima in milanese e poi in italiano, quindi abbiamo detto forse una giornata basta speriamo per raccontare tutto quello che ha fatto Svampa, però in modo ovviamente divertente alla Svampa, quindi al mattino ci sono dei, chiamiamoli proprio degli esperti, che analizzeranno le varie parti della carriera dello Svampa, non so, c'è la francesista Mirella Conenna che sa tutto su Brassense, è quella che dopo Svampa veramente sa tutto, che analizzerà come Svampa ha fatto le traduzioni, è stata a casa sua un po' di tempo e ha visto nell'archivio, ha trovato degli appunti, delle chicche di cui condividerà il senso, poi Flavio Oreglio che invece parlerà dello Svampa cabarettista, dai gufi allo humor, ai locali degli anni 60, eccetera, eccetera. Ecco, chi si stesse chiedendo dove e quando, spieghiamolo subito così, dopo andiamo avanti a spiegare cosa, ma diciamo subito dove e quando. Al teatro Elfo Puccini, nella sala Bausch, cominciamo le 9.45. Tra un paio d'ore si inizia, quindi mancano un paio d'ore, tra un paio d'ore già si inizia, ecco no, la cosa interessante è questo, e lo dico a chi ci sta ascoltando, nonostante viene tutto teatro, uno pensa a teatro, ok ci vediamo stasera alle 21, no, non è stasera, è tutto il giorno, è tutto il giorno, iniziamo appunto, diceva, 9.45, finirà intorno alle 5 e mezza, giudici, questa sera. Sì, intorno alle 5 e mezza. Tutto il giorno, quindi anche se volete passate di lì, boom, buttatevi dentro perché c'è qualcosa a qualsiasi momento oggi, giusto? Sì, sì, in qualche posto c'è ancora perché ovviamente bisognava un po' prenotarsi, però qualche buco c'è e quindi qualche fortunato magari può venire, anzi lo aspettiamo, ovviamente nel pomeriggio poi per parlare… È un po' diverso, non vi dicevi, Nucci, mattina e pomeriggio sono un po' diversi, sono un po'... È tutto, sì, la mattina è un po' più scientifico, non diciamolo troppo se no Svampa si arrabbia e pomeriggio è più legato ai ricordi, agli aneddoti, infatti si aggiungeranno ospiti come Lino Patruno in collegamento da Roma, Enrico Intra perché aveva l'Intras Derby Club dove passavano tutti, compresi Svampa, Patruno, vabbè c'erano anche poi Iannacci e tutti gli altri e poi ci sarà Massimo Cicconi che è un operatore culturale della provincia che ha fatto tantissimo per quanto riguarda i personaggi di Milano e provincia e poi ci sarà Mario Mascioli che ha tradotto insieme a Svampa tutta l'opera omnia di Brassens. Insomma, al pomeriggio una kermesse veramente meravigliosa di curiosità, ognuno racconterà un aneddoto, una chicca, una cosa successa con lo Svampa di cui nessuno sa, quindi sarà divertente, sarà molto divertente. Nucci, ne hai anche tu immagino di aneddoti con lo Svampa, no? Beh sì, ho lavorato con lui per la sua società per vendere i suoi concerti nove anni, quindi mi considero una collaboratrice storica della Gannivel e adesso infatti per quello con la famiglia Svampa, con Dina Svampa, la moglie e le figlie e altri soci abbiamo creato l'associazione Nanni Svampa, questo è il quarto evento che facciamo da quando Nanni ci ha lasciato purtroppo e ogni evento è molto diverso, ma sempre per ricordarlo, parlarne, tenerne viva la memoria perché Nanni è stato un mondo nel mondo artistico italiano, veramente ha abbracciato tante discipline, quindi manca a tantissimi di noi, a tantissime persone, manca. Ecco, la cosa interessante è questo appunto, il capire tutto il Nanni Svampa, magari quello anche appunto che non è conosciuto ai più, anche quelle cose magari che sono state meno conosciute anche a livello artistico, ma che in realtà poi sono fondamentali per la creazione di una carriera artistica della quale Nanni Svampa, perché insomma hanno tantissime cose che magari i più non sanno. Infatti, per esempio lui ha scritto otto libri dedicati ai vari aspetti che prendeva in considerazione, dalla canzone popolare ma anche alle barzellette, il titolo è Bisogna saperle raccontare, oppure Scherzi della memoria, un libro bellissimo dove c'è, raccontati proprio da Svampa, vari momenti della sua carriera, dove lì lui ha svelato delle cose, dei retroscena, dei backstage, eccetera. Quindi, per esempio, i libri, ma anche quando faceva l'attore di cinema. Nanni era un grandissimo attore, non lo dico io, ma lo dicono, ci sarà per esempio Fiorenzo Grassi, che ricorderà i tempi del teatro uomo e non solo, con Nanni attore drammatico. Pensa la differenza fra Nanni gufo e Nanni attore drammatico. È veramente notevole, veramente notevole. Tante cose, chi verrà si porterà a casa tanto Svampa, che magari non conosceva e che scoprirà. Luci, come si fa a raccontare Nanni Svampa nel 2024? Sembra un personaggio ormai di ere glaciali, ormai dimenticate nel passato. Ormai è un mito storico quasi, anzi, dovremmo trovare sui libri storici. Come fate, appunto? Infatti, la mattina soprattutto serve proprio perché analizzando la sua opera, le trasposizioni, per esempio, che aveva fatto di Brassenza, dalla Parigi alla Milano di allora, eccetera, In realtà risulta molto attuale la sua opera. Non parliamo poi della satira, del sociale, del modo di vivere di noi italiani. Cioè è attualissimo, Nanni, è attualissimo per quello che ripercorrerne i passaggi della sua carriera ci fa notare come è ancora collocabilissimo in questi tempi, in questi momenti. Era un visionario per cui parlava di cose che non erano ancora forse pronti, molti di noi non eravamo pronti ad accoglierle e che invece sono poi diventate realtà. Quindi l'attualità della sua opera è uno degli aspetti che verrà fuori molto bene durante la mattina, durante le relazioni dei sei esperti, compreso il suo modo di scrivere le canzoni, come cantautore proprio, perché Svampa non ha fatto solo il riportatore della canzone milanese della canzone d'autore milanese, di danzi, bracchi e non solo, mi cito a caso. Ha scritto anche cose sue, per esempio la mitica Io vado in banca, dimmi tu se non è attualissima ancora, no? Rispetto a quello che uno vorrebbe fare, magari invece non può e deve fare altro. Cioè sono veramente modi di vivere che ancora adesso ci appartengono. Lui li ha visti 40, 50 anni fa, 30 anni fa. Ma i visionari... Sono fatti così, sono fatti così, Nucci. Quando si parla di artisti forse appunto bisognerebbe un attimino vedere davvero chi sono ed eccoli qua, quando poi li andiamo a ritrovare nell'elenco molto corto dei veri artisti che abbiamo, che poi dopo ogni tanto si aggiungono persone che meglio non metterli in quelle liste. Nucci, ricordiamo bene allora l'evento Svampaide, dove, come, quando? Sì, teatro Elfo, Puccini, in Corso Buenos Aires, dalle 9.45, stra puntuali, perché Nanni non amava il quarto d'ora accademico, fino alle 17. Eccoci, e quindi oggi tutto il giorno appunto Svampaide, quindi c'è tutta questa... Andate a vedere, passate, c'è un sito dove possiamo controllare e vedere qualcosa, il programma o cose così? Sì, sì, sul sito dell'Elfo sicuramente, ma anche nella pagina eventi e poi anche sul sito dell'Associazione Nanni Svampa. Perfetto, grazie mille allora Nucci, grazie mille anche all'Associazione Nanni Svampa e buon lavoro, manca poco, mancano adesso, sono le 7.45, fra due ore si apre il sipario, va bene? Si comincia, Svampeide, è una giornata che non ti aspetti. Grazie mille Nucci, buona giornata, allora buona Svampeide anche a te. A presto, ciao, grazie. E andiamo avanti con la musica e poi torniamo qui fra poco, sempre in diretta qui su Cristian Radio con Good Morning Milano. Grazie mille.